Mi è stato lasciato l'onere della chiusura, spero di rispettare il tono e fare una chiusura degna di questo bel seminario. Per cominciare direi che c'è un curioso fato che accomuna molti testi celeberrimi, spesso nei fatti sono quelli che vengono letti di meno. Paradosso a parte, li si conosce in antologia, se ne discutono le idee e i contenuti, ma raramente vengono letti da cima a fondo. Per Italo Calvino questa è una componente costitutiva dei classici. I classici, dice Calvino, sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando si leggono davvero si trovano nuovi. In questo periodo in cui molti di noi si sono probabilmente ripromessi di leggere qualche classico, ho preso dagli scaffali i tre volumi della traduzione inglese di Ibn Khaldun, pubblicati da Franz Rosenthal nel 1958, col titolo The Mukaddimah, An Introduction to History. La letteratura secondaria, halduniana e oceanica, tra i titoli recenti risulta assolutamente piacevole e interessante la biografia intellettuale pubblicata da Robert Irwin nel 2018, solo per citare un favorito e magari per estendere degli spunti di lettura. Condividerò con voi lo schermo, se non riuscite a vederlo, c'è qualche problema, magari lo scrivete. Ibn Khaldun e la sua Mukaddimah, Introduzione alla Storia, sono fra i pochi nomi e titoli della tradizione arabo-islamica a poter produrre un eco nella memoria dei lettori occidentali, diversamente da Avicenna e Averroè, ad esempio, Ibn Khaldun non ha fatto breccia nella tradizione medievale europea e l'orientalista Golius è stato il primo a far conoscere il suo nome nel 1636, pubblicando il testo di un altro autore sulle gesta di Tamerlano, Vite etrerum gestarum timuri, qui vulgo tamerlanes dicitur istoria. E da allora Ibn Khaldun è diventato, increscendo, un tema favorito degli studi orientali. Nel mondo arabo-islamico, invece, i suoi scritti conoscono il successo già dalla prima generazione dei suoi studenti per toccare l'apice nell'impero ottomano, anche se non mancheranno mai i detrattori. Per darne giusto un breve ritratto, per chi non l'avesse così familiare, Ibn Khaldun nasce a Tunisi nel 1332, da una famiglia con lontane origini nell'Arabia meridionale e un passato più recente che l'aveva vista protagonista degli eventi politici della Spagna musulmana, o Al-Andalus. Pur avendo la sua autobiografia, sappiamo poco della sua vita privata. Molto, invece, è noto circa la sua carriera e i suoi viaggi. A vent'anni comincia la sua carriera diplomatica, un diplomatico di professione, diremmo forse oggi, i meno lusinghieri lo hanno definito di sovente un cortigiano. Comunque, un diplomatico che offre i suoi talenti a molti governanti diversi e con fortuna alterna. Le sue missioni lo portano a viaggiare per tutto il Nord Africa, Fes, Tlemcen, Costantina, in Al-Andalus, la Spagna musulmana, in particolare Siviglia e Granada, anche come inviato alla corte di Pietro il Crudele di Castiglia. Intorno al 1380 si trasferisce nell'Egitto dei Mamelucchi, sotto cui servirà come insegnante, come giudice e diplomatico ancora. Nel 1401 seguirà di malavoglia, pensando che non era proprio una bella trovata, e il sultano, ma non fosse una bella trovata, e il sultano Mamelucco in una spedizione in Siria contro l'esercito di Tamerlano, che assediava Damasco. L'esercito Mamelucco si ritira da Damasco in tutta fretta per problemi e ribellioni sul fronte interno. Ibn Khaldun, invece, rimarrà per sette settimane nella città assediata e incontrerà Tamerlano nel suo accampamento. Mutatis Mutandis, per dare un'idea della peculiarità dell'incontro, è come se Winston Churchill si fosse incontrato con Hitler alle porte di Parigi mentre Hitler vinceva la guerra. I passi che andremo a leggere sono tratti appunto dalla sua mukaddima, o introduzione alla sua storia universale. Nella storiografia arabo-islamica, per ogni nuova opera che veniva composta, era uso premettere un'introduzione in cui denunciare gli errori dei predecessori e dichiarare l'aspetto innovativo del proprio lavoro. Nel caso di Ibn Khaldun, questa introduzione in arabo-mukaddima appunto diventerà un'opera a sé. Tra le varie ragioni, la necessità di comporre quest'opera viene presentata come un aggiornamento della storiografia precedente, diventato davvero improrogabile alla metà del XIV secolo, quando la famosa peste del Trecento aveva sconvolto il mondo così come lo si conosceva, incluso quello musulmano. Nelle prime pagine della mukaddima leggiamo «Questa era la situazione, fino a che a metà dell'VIII secolo dell'Egira o il XIV dell'era cristiana, quando la civiltà, sia ad Oriente che ad Occidente, venne colpita da una terribile pestilenza che devastò nazioni e fece svanire popoli interi. La peste divorò molte delle cose buone della civiltà e le spazzovie, colse di sorpresa dinastie ormai senili al momento in cui queste avevano raggiunto il limite della loro durata, diminuì il loro potere e ridusse la loro influenza, indebolì la loro autorità. La condizione delle diverse dinastie si avvicinò al punto di annichilimento e distruzione. La civilizzazione diminuì col diminuire del numero di esseri umani. Città ed edifici cadevano in rovina, le strade e i segnali lungo le vie vennero cancellati, insediamenti e palazzi si svuotarono, dinastie e tribù si indebolirono, tutto il mondo abitato cambiò. Era come se la voce dell'esistenza nel mondo avesse chiamato all'oblio e alla restrizione e il mondo avesse risposto a questa chiamata. Qualcos'altro, però, a parte questa immagine molto suggestiva, è all'origine di una notorietà relativamente insolita oltre i confini del mondo arabo-islamico. La Muqaddima, infatti, è l'opera per cui Ibn Khaldun viene indicato come il padre della sociologia e della storiografia moderna, per non dire dell'economia. Le fuor di dubbio brillanti idee su cui si fonda questa visione, forse un po' anacronistica, sono la descrizione di una storia circolare basata sulla dialettica tra nomadi e sedentari, che va così. I nomadi si sedentarizzano, crescono le città, si afferma la diversificazione del lavoro, le dinastie prendono forma e potere, il surplus produttivo crea il lusso e questo finisce per indebolire le civiltà sedentarie, che vedranno l'imporsi di nuovi gruppi nomadi o seminomadi. Pur ritenendo la cultura sedentaria superiore a quella nomade, perché l'obiettivo dell'umanità è quello di civilizzarsi, Ibn Khaldun riconosce che proprio in questo fine si concretizza la sua più grande debolezza. Il sentimento di gruppo, in arabo, a Sabiglia, è uno degli aspetti più originali dell'opera di Ibn Khaldun. Prendendo le distanze da un portato lessicale non completamente positivo, questo sentimento incarna quei fattori che portano alcuni gruppi umani a cooperare di più e meglio degli altri, a diventare più coesi, arrivando così a fondare stati più grandi e civiltà più importanti. La coesione del gruppo è la chiave del suo successo. La prova è sotto gli occhi di tutti. Se tutti i gruppi umani avessero la stessa asabiglia, creerebbero tutti nazioni della stessa potenza, dimensione e ricchezza. Ma non è così. Le tentazioni comparative sono particolarmente seducenti quando si ha a che fare con personalità ed intelletti così singolari, nonostante l'alto rischio di scivoloni anacronistici, che lo si voglia chiamare precursionismo, come a volte piace a me, cioè tutto è già stato inventato nell'era dell'oro e dell'islam e si sta solo riscoprendo ciò che è stato già fatto. C'è infatti in arabo un intero genere letterario dedicato agli awail, gli inizi, gli incipit, che continuano a prosperare, arrivando anche a toccare la letteratura per l'infanzia moderna o contemporanea. Che lo si voglia invece chiamare ricerca del protos euretes, il primo scopritore o inventore, e il nome greco non lascia dubbi sul fatto che la ricerca di un prometeo sia un vezzo condiviso. Uno sguardo di questo tipo non rivela poi molto, quando non finisce addirittura per produrre una distorsione. Rosenthal, in una brillante nota a piedi pagina alla sua introduzione, scrive Ibn Khaldun è stato dichiarato il predecessore di molti studiosi occidentali, di maggiore o minore statura. Schimmel, nel 1951, elenca Machiavelli, Baudin, Vico, Gibbon, Montesquieu, Labbé de Mabli, Ferguson, Herder, Condorcet, Comte, Gobineau, Tard, Brysing e James. È stato comparato a Hegel ed è difficile trovare un pensatore con cui non possa essere comparato. Questi confronti possono aiutarci a valutare la statura intellettuale del personaggio a cui Ibn Khaldun viene comparato. Certo ci insegnano una lezione di umiltà accademica, ma non contribuiscono molto alla nostra comprensione di Ibn Khaldun. Nel caledoscopio delle comparazioni non va comunque dimenticato che Ibn Khaldun era un uomo del suo tempo che credeva fermamente in tutte le manifestazioni del sovrannaturale, quali religione e magia, con il Corano a fondare entrambe, il cui effetto sulle vicende umane era semplicemente una realtà coranicamente indubitabile, anche se connessa di solito alla dimensione dell'eccezionale più che a quella dell'ordinario. Il lavoro e il comportamento umano rimangono sempre gli attori principali della storia, e vedremo come. Le pagine che ci apprestiamo a leggere dopo questa introduzione non rappresentano forse una scelta antologica usuale, anche se i grandi temi khalduniani non mancano di emergere costantemente in tutti questi passi. In una lunga sezione dedicata alle scienze e alle tecniche, ad esempio, trovano così posto, non lontano, assolutamente vicinissimo alla medicina, alla logica, alla geometria e alla filosofia, varie forme di magia. Leggiamo ad esempio le scienze della stregoneria e dei talismani. Queste scienze mostrano come l'anima umana possa essere preparata ad esercitare un'influenza sul mondo degli elementi, sia senza che con l'aiuto di fattori celesti. Il primo tipo è la stregoneria, il secondo sono i talismani. Queste scienze sono proibite dalle diverse leggi religiose perché sono dannose e richiedono a colui che le pratica di dirigersi verso altro da Dio, come le stelle ed altre cose. Ibn Khaldun stabilisce un interessante parallelo, poi, tra magia e alchimia, usando la leggendaria figura dell'alchimista Jabir ibn Khayyan, il jeber della tradizione latina, come in esso. Jabir ibn Khayyan, scrive Ibn Khaldun, il più grande stregone dell'Islam, fece la sua apparizione in Oriente, ricercò nei libri di scienze e scoprì l'arte alchemica e la stregoneria. Ne studiò l'essenza e la fece emergere, scrisse un numero di opere sulla stregoneria. Discussi a lungo sia la stregoneria che l'arte magica, che vanno mano nella mano con l'alchimia, perché la trasformazione dei metalli in altri metalli è condizionata dai poteri psichici e non da una tecnica pratica, è una specie di stregoneria. L'alchimia è possibile dunque solo come forma di magia, secondo Ibn Khaldun. La sua versione tecnica, quella che include l'uso dell'alambicco nel laboratorio fumoso per produrre l'elixir dalla pietra filosofale, è un'illusione, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore, un puro e semplice imbroglio. Nel capitolo sulla negazione dell'effettività dell'alchimia, impossibilità della sua esistenza e il danno provocato dalla sua pratica, si legge. Molte persone che sono incapaci di guadagnarsi da vivere sono spinti dalla cupidigia a coltivare l'alchimia. Questi sono dell'opinione che sia un mezzo ed un metodo degno per guadagnarsi da vivere e che per gli alchimisti sia più facile arricchirsi che per altra gente. Infatti, questi devono pagare per i loro sforzi in forma di problemi, ristrettezze e difficoltà ed anche in forma di persecuzione da parte delle autorità e perdita della ricchezza per le spese affrontate. Inoltre, questi perdono la rispettabilità e alla fine, quando il loro segreto viene scoperto, cadono in rovino. Alcuni alchimisti si dedicano alla pura e semplice falsificazione. Questa può essere ovvia, come patinare l'argento in oro o rami con argento, o mescolare i due metalli in misura di uno a due o di uno a tre. Oppure c'è un tipo di falsificazione più occulta, quale trattare un minerale per farlo sembrare simile ad un altro. Il rame, ad esempio, può essere sbiancato ed ammorbidito usando del mercurio. Diventa così un metallo che sembra essere argento ai più, ma non ad un esperto. Questi falsari usano il loro prodotto per coniare moneta con le impressioni ufficiali, moneta che fanno poi circolare tra la gente. La loro è la professione più spregevole e perniciosa che ci sia. I falsari cospirano per sottrarre le proprietà della gente, poiché danno rame per argento e argento per oro, così da prendere possesso della proprietà altrui. Il problema qui non è solo di ordine filosofico con l'alchimia, ma ha concretamente a che fare con il modo di procurarsi da vivere. Ci sono delle vie naturali, per farlo, vale a dire commercio, agricoltura e artigianato, e intorno a queste sorge una giungla di espedienti innaturali e non propriamente leciti, tutti accomunati dall'idea di arricchirsi senza sforzo. Uno dei più curiosi descritti nella Mukaddimah è la professione dei cercatori di tesori, o sedicenti tali. La letteratura araba ci conferma che questa non era una pratica poi così rara. Altri testi, come lo svelamento dei segreti di Al-Giaubari, scritto un secolo prima della Mukaddimah, denunciano come tutta una specifica gilda di truffatori si fosse specializzata nello spillare denaro e scroccare ospitalità a chi, accecato dalla cupidigia, insisteva per imbarcarsi in tali imprese. Gli specialisti di quest'arte da arrangiarsi sono quelli che potremmo definire dei clerichi vagantes del Maghreb e sentiamo cosa dice Ibn Khaldun circa le loro attività nel capitolo intitolato «Tentare di guadagnare dai tesori nascosti e da altri tesori non è una maniera naturale di guadagnarsi da vivere». Si deve sapere che molti ingenui e sciocchi che vivono in città sperano di scoprire qualcosa sotto la superficie e di ricavarne profitto. Questi credono che tutto quello che le nazioni del passato possedevano sia stato nascosto sottoterra e sigillato da talismani magici. Questi sigilli, credono questi, possono essere spezzati solo da coloro che si imbattono nella conoscenza necessaria e che sanno offrire gli incensi e le preghiere appropriati a romperli. Gli abitanti del Nord Africa, ad esempio, credono che i cristiani europei che vivevano in Nord Africa prima dell'avvento dell'Islam abbiano sepolto i loro averi e registrato il luogo in cui sono nascosti in delle liste scritte in attesa del momento in cui potessero trovare un modo di portarli di nuovo alla luce. Gli abitanti delle città in Oriente hanno simili credenze riguardo alle nazioni dei Copti, dei Bizantini e dei Persiani. A questo effetto fanno circolare storie che suonano come discorsi inutili. Così sentiamo che un cacciatore di tesori arriva a scavare dove del denaro era stato sepolto, ma senza conoscere il talismano o la storia collegata a questo. Di conseguenza, questi trova il luogo vuoto o popolato di vermi. Oppure vede il denaro e i gioielli che giacciono lì, ma delle guardie li proteggono a sparatratta. Oppure la terra trema e questi è convinto che ne sarà inghiottito e altre insensatezze del genere. In aggiunta all'essere ingenui e stolti, un motivo comune che spinge le persone ad andare a caccia di tesori nascosti è la loro incapacità di guadagnarsi da vivere in una delle maniere naturali che portano al profitto, quali il commercio, l'agricoltura o l'artigianato. Perciò questi provano a guadagnarsi da vivere in maniere equivoche, quali la ricerca dei tesori nascosti e simile, non in una delle maniere naturali. Per il fatto che questi sono incapaci di fare lo sforzo necessario a guadagnare qualcosa, allora credono di poter guadagnare il loro sostentamento senza sforzi o problemi. Non si rendono conto che cercando di guadagnarsi da vivere in una maniera impropria si gettano in guai difficoltà e spese molto più grandi che non altrimenti, si spongono inoltre al rischio di essere puniti. Da quanto abbiamo letto finora, vediamo che per Ibn Khaldun, l'alchimia, l'illusionismo e la ricerca di tesori hanno un tratto in comune. Scaturiscono tutti dalla cupidigia e dal desiderio di facili guadagni. C'è solo una categoria che pensa al denaro più dei poveri, ci ricorda Oscar Wilde, i ricchi. E proprio questi si lasciano irritire più degli altri in tali folli e imprese per sostenere i costi crescenti del lusso sfrenato in cui vivono. Così ce li descrive Ibn Khaldun. A volte, il principale motivo che spinge la gente a cercare tesori è il fatto che si sono abituati ad un lusso sempre crescente e smisurato. Il risultato è che i diversi modi di guadagnarsi da vivere non riescono a stare al passo con queste spese e non riescono a pagare per le loro necessità di lusso. Quando una persona di questo tipo non riesce a guadagnare abbastanza in una maniera naturale, la sua unica via d'uscita è di sperare che in un solo colpo, e senza alcuno sforzo, riesca a trovare denaro sufficiente per pagare le abitudini stravaganti in cui è preso. In questo modo, egli diventa ansioso di trovare tesori nascosti e concentra su questo tutti i suoi sforzi. Per questa ragione, molte delle persone ansiose di andare a caccia di tesori sono proprio quelle abituate a vivere nel lusso. Fra i personaggi delle varie dinastie e fra gli abitanti delle città, quali il Cairo, dove il lusso è molto più diffuso e le condizioni di vita sono favorevoli, molti sono presi dalla ricerca dei tesori. Interrogano i viaggiatori sulle storie circa i favolosi tesori nascosti con lo stesso slancio che dimostrerebbero per la pratica dell'alchimia. Così sentiamo che gli abitanti del Cairo interrogano gli studenti, i clerici vagantes del Nord Africa che incontrano, nella speranza che con il loro aiuto riusciranno forse ad imbattersi in un tesoro nascosto o in qualche altro tipo di tesoro. La gente in Egitto ha poi un debole per la magia, una caratteristica che hanno ereditato dai loro antenati, le cui discipline magiche e i cui monumenti sopravvivono ancora in Egitto, come le tombe ed altri edifici degli antichi egizi testimoniano. La storia dei maghi del Faraone, così come riportata nel Corano alla Sura 7, versetto 110, testimonia della loro speciale conoscenza della magia quando appunto i maghi del Faraone danno prova delle loro abilità davanti a Mosè, anche se poi perdono la sfida. Ibn Khaldun scende nel dettaglio tecnico di queste truffe vere e proprie che contano sia delle componenti tecniche che delle manipolazioni assolutamente solo psicologiche. Questi imbroglioni, scrive Ibn Khaldun, creano situazioni degne di nota ed impiegano tecniche sorprendenti. Si spingono così oltre nelle loro subdole menzogne da prendere residenza in famosi palazzi e case che sono noti come nascondigli di tesori. Scavano in questi posti e creano delle celle sotterranee e vi mettono poi dei segnali che vanno ad includere nelle loro liste falsificate. Poi si recano da qualche sciocco con quelle liste, lo spingono ad affittare il palazzo e a trasferirsi lì. Gli suggeriscono che il palazzo contiene un tesoro nascosto di incredibili dimensioni, richiedono del denaro per acquistare sostanze medicinali ed incensi per rompere i talismani. Lo condizionano mostrando gli segni che loro stessi hanno piazzato lì e prodotto. Lo sciocco si eccita per quello che vede, viene ingannato e coinvolto senza rendersene conto. Durante queste operazioni gli imbroglioni usano un lessico particolare con l'aiuto del quale persuadono le loro vittime e non fanno loro capire quanto dicono circa lo scavare, l'incenso, lo sgozzamento degli animali e altre cose di questo tipo che essi fanno. Quindi Ibn Khaldun menziona anche il gergo dei ladri che di solito faceva parte della lingua in cui si esprimevano questi gruppi, queste gilde di truffatori e appunto la mancata comprensione di ciò che essi dicono crea e aggiunge all'effetto di meraviglia e soggiogamento. Ibn Khaldun poi decostruisce l'argomento dei cercatori di tesori secondo una logica ferrea ed anche economica. Prima di tutto non ha alcun senso accumulare e poi nascondere tesori lasciando indizi ad una posterità fatta di estranei e sconosciuti. Inoltre la disponibilità e la quantità di ricchezza non spuntano miracolosamente dal terreno ma sono determinati dal lavoro umano. Le cose che sono state dette sulla ricerca dei tesori nascosti non hanno alcun fondamento scientifico, ne sono basate su informazioni concrete. Si dovrebbe capire che nonostante a volte vengano in effetti trovati dei tesori nascosti questo avviene raramente e per caso, non come risultato di una ricerca sistematica. Il nascondere tesori non è materia di interesse pubblico tale che la gente abitualmente nasconde il proprio denario sottoterra per poi sigillarlo con dei talismani né in passato né oggigiorno. I tesori nascosti, così come sono menzionati nelle tradizioni profetiche e di cui i giuristi assumono l'esistenza e che sono stati sepolti nei trapri islamica vengono rinvenuti per caso e non a seguito di una ricerca sistematica. Inoltre, perché qualcuno che accumula tesori e li sigilla con dei talismani facendo sforzi straordinari per occultarli dovrebbe poi lasciare indizi e tracce in modo da farli trovare a chiunque sia interessato? Perché stilarne una lista in modo che le genti di qualsiasi tempo e luogo possano trovare il suo tesoro? Questo entrerebbe in contraddizione con l'intenzione di tenerlo nascosto. Allora, le persone intelligenti agiscono con qualche preciso scopo utile in mente. Una persona che accumula il suo denaro lo fa perché desidera che i suoi figli o i suoi parenti ne entrino in possesso. Nessuna persona sensata prova ad occultare completamente il suo denaro da chiunque. Fare questo ne provocherebbe solamente la distruzione o la perdita o che questo denaro vada a qualcuno di una futura nazione a lui sconosciuta. È stata posta la domanda dove sono i beni delle nazioni che ci hanno preceduto e dove sono le grandi ricchezze esistite presso queste nazioni? In risposta a ciò, si dovrebbe sapere che i tesori di oro, argento, pietre preziose ed utensili non sono differenti da altri minerali o capitali acquisiti dal ferro, dal rame, dal piombo o ogni altra proprietà reale o minerale ordinario. È la civiltà che li fa venire alla luce con l'aiuto della mano d'opera umana e che ne fa aumentare o diminuire la quantità. Tutto ciò che è in possesso delle persone può essere trasferito e passato in eredità. Spesso ciò è stato anche trasferito da una regione all'altra da una dinastia all'altra secondo il suo scopo e secondo la particolare civiltà che lo necessitava. E se in questo momento il denaro scarseggia in Nordafrica non è così nel paese degli Slavi e nell'Europa cristiana sia scarso in Egitto ed in Siria non lo è in India ed in Cina. Tali cose sono meramente oggetti materiali e capitali acquisito. È la civiltà che li produce in abbondanza o che ne provoca la scherzità. Inoltre i minerali sono affetti dalla distruzione così come tutte le altre cose che esistono. Le perle e i gioielli si deteriorano più velocemente di qualsiasi altra cosa. Anche l'oro, l'argento, il rame, il ferro, il piombo e lo stagno sono affetti dalla distruzione e dal completo annichilimento che distrugge la loro sostanza in breve tempo. Dopo aver distrutto le fole dei cercatori di tesori con degli argomenti economicamente e materialmente molto stringenti Ibn Khaldun non manca di sottolineare come aveva già fatto prima che il fenomeno della ricerca di tesori assume dimensioni del tutto particolari in Egitto proprio perché in quella terra c'è la concreta possibilità che emerga un tesoro di qualche tipo quando semplicemente si scava una buca per terra. La tradizione manoscritta araba, come potete, spero, possiate vedere sullo schermo preserva complessi manuali per guidare i cercatori di tesori in rovine protette da incantesimi, popolate da spettri, sigillate da talismani magici e così via. E la maggior parte di questi manoscritti, almeno noti, come questo che vedete sullo schermo è preservato alla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi. Ibn Khaldun sa, invece, e ci ricorda, che questo è un effetto della storia. Per secoli, tutti i popoli passati dall'Egitto hanno scavato e carotato le rive del Nilo facendo incetta dei tesori funerari degli antichi egizi. Leggiamo cosa registra Ibn Khaldun su questa febbre dei tesori tutto egiziano. I ritrovamenti e la scoperta di tesori in Egitto si spiegano col fatto che l'Egitto è stato soggetto ai copti per più di duemila anni, e qui copti va letto come egizi antichi. I loro morti erano seppelliti con l'oro, l'argento, le pietre preziose e le perle che possedevano. Questo era il costume della gente delle antiche dinastie. Quando la dinastia dei copti è finita e i persiani hanno dominato l'Egitto, questi cominciarono a cercare le tombe per tali oggetti e le scoprirono. Questi hanno preso un numero indescrivibile di tali oggetti dalle tombe, ad esempio dalle piramidi, che erano tombe reali, ed anche dagli altri tipi di tombe. Lo stesso fu fatto dai greci dopo di loro. Queste tombe offrivano opportunità per la ricerca dei tesori ed hanno continuato a farlo fino ai giorni nostri. Ci si imbatte di frequente in un tesoro sepolto al loro interno. Questo può consistere in denaro sepolto dai copti, oppure nei vasi e nei sarcofagi d'oro e d'argento preparati per l'occasione, oggetti con cui onoravano i loro morti al momento della sepoltura. Per migliaia di anni le tombe dei copti hanno offerto l'opportunità di trovare un tesoro. Proprio per l'esistenza di tesori nelle tombe, gli egiziani di oggi, dice Ibn Khaldun, si sono interessati alla ricerca dei tesori e alla loro scoperta. Coloro che sono illusi o affetti da queste cose devono cercare rifugio in Dio l'Altissimo, dalla loro incapacità di guadagnarsi da vivere e dalla loro pigrizia rispetto a questo. Così come il messaggero di Dio ha cercato rifugio da questo e dalle lusinghe di Satana. Non ci si dovrebbe occupare di assurdità e storie false. E poi dal Corano in più di un punto il Dio dà a chi vuole senza far di conto. Il predatore di tombe indossa e ha indossato nel corso del tempo diversi costumi, ma il fascino che questa figura esercita non sembra tramontare. Numerose anche le icone della cultura pop che supportano questa impressione, ad esempio Indiana Jones e Lara Croft, solo per citare i giganti del genere. E se è lecito immaginare gli alchimisti come predecessori dei chimici, forse l'idea dei predatori di tombe suscita negli archeologi quell'antipatia che solo qualcosa di ancestrale può provocare. L'ultimo epigono dei predatori di tombe è stato probabilmente Giovanni Battista Belsoni, padovano di nascita, di umili origini, figlio di barbiere. Va a studiare idraulica a Roma vivendo in ristrettezze e conventi per sbarcare il lunario. Quel fratello si trasferisce a Londra e diventa famoso sui palcoscenici londinesi come il Sansone Patagonico, un personaggio inventato da un astuto empresario londinese che sfrutta la fisicità di Giovanni Belsoni, che era un gigante alto più di due metri e il fratello era solo qualche centimetro di meno. Qualche isolato più in là, però, il British Museum preserva ancora il colosso di pietra del giovane Memnone che sfidando l'impossibile Belsoni riuscì a far arrivare a Londra spostandolo prima sulle sabbie, diciamo, yarda per yarda, giorno per giorno e poi facendolo navigare sul Nilo fino ad Alessandria e da lì in un paio d'anni fino a Londra e riuscì in quest'impresa impossibile, ritenuta impossibile, dopo che perfino il caparbio Napoleone aveva rinunciato a spostarlo e a portarselo a Parigi. Di Belsoni è la scoperta della tomba di Feti I, ancora nota come tomba Belsoni, ed è Belsoni a liberare i colossi di Abu Simbel dalla sabbia che li nascondeva. Sempre Belsoni, il forzuto celebre nei teatri londinesi per la sua piramide umana in cui riusciva a portare con una pesantissima impalcatura ferrea di circa 60 chili altre 12 persone sulle spalle e muoversi aggraziatamente nell'arena, sarà sempre lui a scoprire l'ingresso della piramide di Kefren, la seconda piramide sulla piana di Giza, dopo che Erodoto aveva negato l'esistenza di vani sotterranei e fino a quel momento le sue tesi erano rimaste indiscusse, perfino tra la nascente archeologia vittoriana, in qualche modo. Ed è quasi commovente come Belsoni abbia marcato la proprietà intellettuale della scoperta con un vistoso graffito dalla mano leggermente perfino un po' incerta, non era un grande letterato Belsoni, per ricordare a tutti che fosse stato a scoprire l'ingresso alla camera funeraria della piramide. E un eco dei testi sui tesori e dell'approccio alla ricerca dei tesori che abbiamo letto in Ibn Khaldun la ritroviamo nello scambio tra Belsoni e uno dei molti sceicchi beduini. Belsoni ce lo descrive come il più gran villano che avessi mai visto, in senso positivo, perché Belsoni lo incontra vestito e armato di tutto punto, accompagnato da una scorta di 20 cavalieri anche questi armati fino ai denti e con personaggi di questo tipo spesso Belsoni che ha viaggiato in lungo e in largo ma soprattutto in lungo l'Egitto si trovò spesso a contrattare appunto nel corso delle sue spedizioni. Lo sceiccolo apostrofa rudemente e piuttosto seccamente gli chiede dove vai tu e cosa ci fai qui. Belsoni in una maniera un po' romantica e forse ingenua, chissà se ci credeva o meno in quel momento, risponde che è venuto a cercare pietre ed edifici per ricostruire la storia dei suoi antenati. Allo sceicco questa spiegazione deve essere sembrata assolutamente insensata tanto da fargli rispondere tu vuoi tesori, che ci fai con le pietre. Questo è davvero un classico. Io ringrazio, vi ringrazio tutti per aver ascoltato queste letture su Ibn Khaldun e se ci fosse qualche domanda magari moderata da Luca Guidetti io rispondo volentieri. Sì, se c'è qualche domanda. non ci sono domande, qualche curiosità. direi allora... C'è nella chat Luca? C'è solo Davide Ligi che scrive e avraggio non domanda. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti